Il corso I circuiti elettrici in corrente continua fornisce le competenze necessarie per riconoscere la struttura di un circuito elettrico, per saperne identificare le varie parti e per conoscere le relazioni esistenti tra i componenti elettrici presenti. Ti consente di riconoscere i bipoli in serie e in parallelo e di identificare con sicurezza le relazioni tra tensioni e correnti nel circuito. La legge di Ohm viene affrontata in stretta relazione con le convenzioni dei segni affinché non ci siano dubbi sul segno delle tensioni e sul verso delle correnti calcolate. In questo modo sarà sempre chiaro il bilancio tra potenza erogata dai bipoli attivi e assorbita dai bipoli passivi. Le leggi di Kirchhoff ai nodi e alle maglie vengono espresse in modo semplice ma rigoroso e si affrontano i metodi risolutivi del sistema di equazioni ottenute. Decine di esercizi originali vengono proposti accompagnati dalle rispettive soluzioni in modo da impadronirsi dei metodi risolutivi più utilizzati non solo in corrente continua. Al termine del corso saprai risolvere circuiti complessi in presenza di generatori di tensione o di corrente e di resistori mediante l'utilizzo di circuiti equivalenti semplificati.